Ancora ben ritrovati con Milano Pavia News, edizione Pavia, vediamo i principali fatti di questa giornata. Non c'è nessuna crisi, quella a cui abbiamo assistito è semplice dialettica politica, così il sindaco di Pavia fracasse allontana le polemiche dopo il consiglio comunale di martedì. Ci sono finti carabinieri, hanno derubato un pensionato di 83 anni a Vigevano e due finti militari hanno portato via gioielli per un valore di 10.000 euro. Possibili incendi con l'intestità del fuoco elevato, inoltre a Popavese scatta l'allerta arancione da parte della protezione civile e rischio più basso in pianura, con codice giallo. Vigevano e sporca, un ritornello che si sente ripetere spesso in città, una sensazione che potrebbe essere causata da diversi fattori, abbiamo chiesto un parere ai cittadini. Il vecchio albergo pace nella frazione Pometo di Colli Verdi, smesso da decenni, avrà una nuova vita, il comune l'ha acquistato e potrebbe ospitare una comunità per minori non accompagnati. C'è la politica in primo piano in questa edizione del nostro telegiornale, col caso che tiene banco a Pavia dopo il consiglio comunale infuocato di martedì, la dura presa di posizione della consigliera comunale della Lega Eugenio Marchetti che non ha fatto mancare critiche all'amministrazione, oggi la replica del sindaco Fracassi. Sentiamo. Non c'è nessuna crisi di maggioranza, quello a cui abbiamo assistito, è semplice dialettica politica. Così il sindaco di Pavia Fabrizio Fracassi allontana le polemiche dopo il consiglio comunale di martedì sera, nel corso del quale la consigliera della Lega Eugenia Marchetti aveva parlato di una maggioranza sempre più debole. L'amministrazione sta continuando il suo lavoro, sottolinea Fracassi, che poi risponde anche agli attacchi delle opposizioni. Qui stiamo parlando naturalmente di dialettica, poi a tutti gli effetti, di confronti che si stanno facendo all'interno della maggioranza, ma mi pare che poi siano i fatti che contano, le delibere sono state tutte votate, anche da parte naturalmente di coloro che hanno posto alcuni quesiti. Quindi vuol dire che l'amministrazione sta lavorando, sta proseguendo nel suo lavoro e non c'è il rischio di andare a casa. Stiamo modificando, siamo anche all'ultimo anno e normalmente succede in qualsiasi contesto che nell'ultimo anno ci sia naturalmente della dialettica. Nella dialettica passare a dire che qui c'è il rischio di andare a casa, tengo anche a precisare che siccome naturalmente i consiglieri di opposizione, che fanno il loro lavoro naturalmente. E su questo non c'è discussione, che erano state avvisate anche sul fatto che saremmo andati in seconda seduta. Quindi potevano anche evitare votendo. Poi, ripeto, fanno il loro lavoro. Noi non ci siamo presentati non per sgarbo istituzionale, ma sul fatto che avevamo detto. Riguardo allo sfogo della consigliera Marchetti, Fracassi spiega di non essere preoccupato, l'importante, dice, è condividere il lavoro portato avanti dalla Giunta. È meglio che naturalmente le cose vengono dette, dopodiché ognuno si assume naturalmente le proprie responsabilità per quello che mi ha detto. L'importante è poi che comunque il tutto sia stato votato. Quindi vuol dire condividere e ha condiviso anche la consigliera quello che è un percorso che stiamo portando avanti. Poi è legittimo che ognuno possa anche tra virgolette trasmettere e dire, così come è stato detto, fare alcune affermazioni. Nella maggioranza si sta discutendo anche di un rimpasto di Giunta con la lista Pavia Prima che da tempo chiede un assessorato. Su queste ipotesi il sindaco non si sbilancia anche se ammette che c'è una discussione in corso. Si sta parlando naturalmente anche di quello. Di conseguenza non c'è nessuna catastrofe, non ci sono cose particolari, fa parte di una discussione a livello generale né più né meno. Quindi ci si sta confrontando con le varie forze politiche e con i consiglieri di maggioranza per arrivare poi a una definizione. Un consiglio, quello di martedì, che ha avuto diverse conseguenze, le reazioni del sindaco fracassi e anche quelle di ASM Pavia per alcune dichiarazioni della consigliera Marchetti. In relazione appunto, si legge nel comunicato, le dichiarazioni della consigliera rilasciate nel corso del Consiglio Comunale di martedì, secondo le quali ASM Pavia non provvede alla corretta pulizia del parco della Vernavola, facendo riferimento particolare ai rifiuti abbandonati, quali cartelli stradali e transenie. Siamo a specificare che, secondo quanto previsto dal contratto, essendo il parco della Vernavola un'area di pubblica utilità, ad ASM Pavia spetta la sola attività di spazzamento manuale, svuotamento cestini che viene svolta nei termini contrattuali ordinari. La rimozione dei rifiuti abbandonati invece rientra tra le attività indicate come servizi accessori e come tale deve essere attivato su richiesta del Comune di Pavia. Poi prosegue la nota, fa specie che un tema come il contratto di servizio di verde igiene affidato ad ASM e a lungo dibattuto in Consiglio Comunale non risulti conosciuto dalla consigliera comunale Marchetti, la cui disinformazione tuttavia non deve andare a discapito dell'immagine della società. E insomma, anche su questo fronte non mancano le polemiche. Torneremo ad aggiornarvi polemiche sul degrado in città anche a Vigevano. E allora sentiamo in questo caso invece il parere dei cittadini. Vigevano e sporca è un ritornello che si sente spesso ripetere in città, una sensazione che potrebbe essere causata da diversi fattori. Ma cosa dà più fastidio ai vigevanesi? Abbiamo fatto un piccolo sondaggio ed è emerso che il problema più sentito è quello delle deiezioni canine. È indecente. Qual è la cosa che dà più fastidio insomma? Tutto quello... Il plastico? Tutto, tutto. Gente che porta i cani anche qua in via del popolo a fare i suoi bisogni, tutte quelle cose lì. I cani che fanno la sua parte. I padroni no. Quello no, non è colpa loro. La piazza no. La piazza non è pulita? No. Qual è il problema principale insomma che vede di sporci? Gli animali che entrano in piazza lasciano i suoi bisogni lì e tutte le mattine vediamo che ci sono le colonne sporche. Passeggiando per il centro effettivamente si nota una situazione poco decorosa. Alcune vie in particolare hanno i muri pesantemente colpiti. Residenti e commercianti si difendono come possono. C'è chi sparge delle sostanze per limitare i danni e chi ogni mattina lava il tratto di strada davanti all'ingresso. La maleducazione però non interessa soltanto alcuni proprietari di cani. Tra i cittadini si segnalano diverse da mentele anche per la sporcizia generata da chi butta a terra mozziconi di sigarette e cartacce varie. No, è sporca. Molto sporca. Qual è la cosa che le dà più fastidio? La maleducazione perché si potrebbe usare i cestini e la gente invece butta. Butta la roba di marciapiedi nelle strade ma anche roba grossa. Vigia 1 metterebbe qualcosa in più ma questo dipende dall'educazione del cittadino. Non è un problema del comune. È il cittadino che butta perché qua si è pulito perché c'è un signore che tutte le mattine pulisce i murciconi nella via del popolo. Chiudiamo questa pagina amministrativa non senza polemiche. Inoltre a Popavesi invece ci spostiamo adesso per l'allerta incendi, addirittura allerta arancione, rischio più basso invece in pianura. Il punto è nel prossimo servizio. La siccità, quasi un controsenso in questi mesi di primavera, non crea soltanto problemi e preoccupazione agli agricoltori. Unita al vento e l'aumento, seppur moderato, delle temperature ha spinto la protezione civile della Lombardia ad alzare al livello arancio il rischio incendi inoltre può, mentre è di un gradino più bassa, ovvero gialla, l'allerta in pianura e nel resto della provincia. Negli ultimi giorni infatti, nota la protezione civile, si è riscontrata una diminuzione dell'umidità dell'aria e dello strato superficiale del terreno a seguito della persistente mancanza di piogge. Si segnala quindi che le condizioni meteoclimatiche e l'umidità del combustibile vegetale rimarranno tali da generare possibili incendi con intensità del fuoco elevata e una propagazione veloce inoltre può pavese, aggiunge la protezione civile. Le prime possibili piogge diffuse potrebbero infatti arrivare soltanto venerdì 7 aprile, anche se ad oggi non è chiaro quanto queste interesseranno effettivamente il territorio. Dalla cabina di regia arriva quindi un appello rivolto ai gruppi attivi sul territorio per un monitoraggio attento della situazione e per la popolazione perché si faccia ancora più attenzione a mantenere comportamenti corretti. Si raccomanda di attivare o mantenere adeguati azioni di sorveglianza e pattugliamento su tutto il territorio che dovranno riguardare prevalentemente i comuni ricadenti nelle classi di rischio 3, 4 e 5 del piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, scrive la protezione civile e ancora. Per scongiurare il pericolo di innesco e propagazione degli incendi boschivi si invita la popolazione ad adottare comportamenti corretti, informarsi costantemente sulle previsioni di rischio incendi boschivi utilizzando l'app Allerta LOM e avvisare le autorità competenti in caso di necessità e avvistamento di incendi. Le segnalazioni concludono vanno fatte con tempestività ad ogni principio di incendio telefonando ai numeri di emergenza. La cronaca adesso per documentare l'ennesimo caso di truffa ad un anziano, un uomo di 83 anni, un pensionato di Vigevano, è stato avvicinato da finti carabinieri via Gioielli per circa 10 mila euro. Fingevano di dover effettuare indagini per dei furti commessi in zona ma i ladri in realtà erano loro, travestiti da carabinieri. Un anziano ultraottantenne residente in una zona periferica di Vigevano è stato vittima di una truffa mercoledì mattina. L'episodio è stato denunciato nelle scorse ore. I due truffatori si sarebbero presentati indossando delle pettorine e spacciandosi per carabinieri. La scusa per entrare in casa era quella di dover effettuare dei controlli per dei presunti furti avvenuti nella via dove abita l'anziano. Una volta dentro avrebbero convinto il padrone di casa ad aprire la cassaforte. Come spediente avrebbero chiesto di poter controllare se mancasse qualcosa. Per i malviventi a quel punto il più era fatto. Avrebbero distratto la vittima con una scusa e ripulito così il forziere dai preziosi. Il bottino per un controvalore di circa 10 mila euro consisterebbe in alcuni gioielli di famiglia. Oltre al danno economico ci sarebbe anche una perdita affettiva. Le indagini sono state prese in carico dai carabinieri della compagnia di Vigevano. Una nuova vita per l'albergo abbandonato ormai da diversi anni a Pometo, frazione di Colli Verdi. Inoltre Po a Pavese potrebbe essere ristrutturato e ospitare uno spazio per i minori non accompagnati. Vediamo. Il vecchio albergo pace nel centro della frazione Pometo di Colli Verdi e dismesso ormai da decenni sarà demolito entro quest'anno. Poi forse al suo posto sorgerà una comunità per minori non accompagnati. Il condizionale però in questo caso è d'obbligo visto che il progetto per la ricostruzione da 500 mila euro per il momento è fermo in attesa di un finanziamento. Si tratta comunque di un passo avanti notevole, ha affermato il sindaco di Colli Verdi Sergio Lodigiani. L'acquisto di questo immobile è molto importante visto che la struttura è dismessa da decenni e ormai faticente nella piazza principale del paese. Fino agli anni 60 del secolo scorso questo albergo era infatti molto frequentato dai turisti che trovavano qui un luogo di relax nella tranquillità della collina dell'Oltrepo. Poi il boom economico, il turismo di massa verso mete di villeggiatura più esclusive lo hanno relegato sempre più ai margini fino alla definitiva chiusura alcuni decenni fa. Dopo parecchi anni siamo riusciti ad acquistare l'ex albergo pace, l'abbiamo acquistato l'asta e adesso stiamo aspettando le belle arti già l'ok per le demolizioni perché la struttura è marcia, il geologo ci ha consigliato di demolirla e poi rifare quel che vogliamo. Attualmente avevamo un progetto per il recupero dei ragazzi abbandonati però non è stato finanziato da Fondazione Cariplo. Attualmente lo demoliamo, sistemiamo la piazza e aspettiamo di trovare qualcosa per poter poi ripristinarlo come prima. Allora l'investimento è stato 80 mila euro più le spese, siamo attorno ai 100 mila euro. Il problema è l'investimento, stiamo parlando di 500 mila euro, il progetto che avevamo per quelle attività lì, il recupero dei ragazzi abbandonati. Adesso attualmente non siamo stati finitati da Fondazione Cariplo, aspettiamo un attimo e vediamo cosa possiamo fare. Lo strutturo è un po' più piccolo che lo ha di questo perché sono 300 metri per piano, sono tre piani, sono 900 metri, però un po' più piccolo ma sempre rifare una struttura. Quindi un intervento importante che il paese aspettava da tempo. Sicuramente, anche perché è brutto da vedere su una piazza principale un decoro così. Ancora a Vigevano dove negli anni si è assistito a un'espansione delle attività produttive nelle due aree industriali di Corso Torino e Via Ceresio e quella di Corso Novara e Via Tortuna, mancano però dei collegamenti del trasporto pubblico locale. In una Vigevano che negli anni ha progressivamente perso attività produttive ci sono due aree andate in controtendenza. L'area industriale di Corso Torino e Via Ceresio e quella di Corso Novara e Via Tortuna. Qui si trovano ancora stabilimenti di piccole e medie dimensioni con centinaia di lavoratori complessivi. Le due zone hanno avuto un impulso a seguito del PGT del 2010. Corso Torino e Via Ceresio beneficiano del quinto lotto della tangenziale inaugurato proprio in quell'anno, mentre Corso Novara aspetta che venga completata la bretella di Via Tortuna per mettere definitivamente a posto la viabilità. Entrambe le aree però non sono coperte dal trasporto pubblico, un'esigenza per molti lavoratori di cui se fatto portavoce il Movimento Vigevano prima di tutto. Nel documento con le proposte in vista della revisione del PGT viene suggerita una riforma del trasporto pubblico urbano in modo da raggiungere aree scoperte che negli ultimi dieci anni hanno conosciuto un certo sviluppo. Oltre alle zone industriali di Corso Torino e Corso Novara viene citato il nuovo Palasport, la parte esterna di Corso Genova e le aree commerciali di Via Industria. Un trasporto pubblico efficiente può togliere traffico, può togliere inquinamento e dà assolutamente inclusività perché non tutti possono avere più di un'auto a disposizione in famiglia per esempio. Oltretutto qui possiamo notare in questa città che le zone più periferiche non sono neanche in molti casi servite e in alcuni casi fortunatamente l'industria è ancora presente. Oltretutto anche tutti i punti di interesse non sono coperti, per esempio noi proponiamo anche una nuova linea che possa collegare il De Rodolfi alla piazza Sant'Ambrogio. Il tema trasporto pubblico è tutto da rivedere con anche dei mezzi potenzialmente meno inquinanti di quelli super antiquati che abbiamo a disposizione. Non solo periferie, da Vigevano prima di tutto propongono anche di riportare gli autobus in centro, di fatto assenti dalla rimozione delle fermate a ridosso di Piazza Ducale avvenuta a inizio anni 90, suggerendo un percorso da effettuare con mezzi elettrici dalla casa di riposo De Rodolfi verso Corso Garibaldi e Via Merula per poi passare da Piazza Sant'Ambrogio e dalla stazione per finire in Corso Pavia. La banda ultralarga è una grandissima occasione per il territorio della provincia di Pavia, dirò l'assessore regionale Lucenti che sarà presto sul territorio per capire a che punto sono gli investimenti. Prossimamente sarò a Pavia per incontrare gli amministratori del territorio e i tecnici di Open Fiber per verificare lo stato dell'arte dei progetti relativi agli interventi di banda ultralarga. Lo ha confermato l'assessore regionale ai trasporti e mobilità sostenibile Franco Lucente nel corso di un incontro in videoconferenza organizzato da Regione Lombardia su richiesta della provincia di Pavia. Per discutere delle criticità legate ai lavori per la realizzazione della rete internet a banda ultralarga. Si tratta di un'opportunità straordinaria per tutta la Lombardia e in particolare per il Pavese, che porterà sicuri benefici a tutta la collettività, ha commentato Lucente. La rete di fibra ottica permetterà una connessione veloce e moderna per tutto il territorio, favorendo le aree periferiche della provincia e azzerando le disparità tra le diverse zone. Il ruolo di Regione Lombardia, ha aggiunto Lucente, è di supportare gli enti locali, vigilare sulla corretta attuazione delle opere e facilitare l'iter amministrativo per l'avvio dei lavori, unitamente ai rapporti con Open Fiber. Sappiamo che ci sono problemi da risolvere legati essenzialmente ad una serie di lavori non eseguiti a regola d'arte. Regione Lombardia c'è ed è disponibile a verificare con i tecnici, le amministrazioni e la società giudicataria. Il modo migliore per far sì che la banda ultralarga sia davvero uno strumento fondamentale per la connessione dei territori, un servizio strategico per tutta la comunità. In Lombardia, gli interventi di infrastrutturazione in fibra ottica coinvolgono oltre 1.400 comuni. E a proposito di Regione Lombardia, proprio grazie ad alcune risorse stanziate dalla Regione, Broni potrà installare nuove telecamere di sorveglianza che andranno a coordinare ed aiutare il lavoro delle forze dell'ordine. 40 nuove telecamere per il Comune di Broni, un progetto imponente, considerate le dimensioni della cittadina, poco meno di 10.000 abitanti, che dovrebbe trovare attuazione nei prossimi mesi quello finanziato con 44.500 euro dal Comune grazie ad un contributo regionale. Nelle intenzioni dell'amministrazione di Broni, i nuovi occhi elettronici dovrebbero garantire più sicurezza, in particolare per famiglie e bambini, ma non solo. Ai parchi pubblici è infatti destinata la maggioranza degli interventi. Sono 10 le videocamere che saranno installate nel parco di Villa Nuova Italia, mentre 8 saranno posizionate in quello di Piazza Ferrara, stesso numero per quello di Piazza Libertà, mentre a quello di Via Eseguiti sono invece state destinate 4 telecamere. I restanti impianti saranno installati nel giardino urbano di Via Emilia, nelle aree di Sgambamento Cani e in Piazza Garibaldi. Qui gli occhi elettronici saranno 4 e terranno sotto controllo tutta la piazza e il municipio. A coordinare tutto il sistema sarà una nuova antenna trasmettitrice che sarà posizionata nei pressi del monte di San Contardo, in un terreno acquistato appositamente dal Comune. A Mortara per una bella iniziativa che ha coinvolto gli studenti del liceo che hanno potuto intervistare gli attori della serie Mare Fuori. Gli studenti del liceo Modeo di Mortara a lezione di legalità grazie agli attori di Mare Fuori. I ragazzi in collegamento da remoto hanno potuto intervistare alcuni protagonisti della popolare serie televisiva che hanno raccontato la loro esperienza dentro e fuori dal set. A intervenire sono stati Pia Lanciotti, Agostino Chium Mariello, Clara Soccini e Maddalena Stornaiolo. L'occasione è stata utile per discutere con loro di alcuni dei temi più importanti affrontati nella fiction, come il disagio giovanile. Abbiamo preso anche dei punti come bullismo e violenza sulle donne per avere dei punti di confronto fra persone come loro e alunni e abbiamo fatto anche delle domande generali che abbiamo potuto capire anche i loro punti di vista. Sensazioni? Sensazioni molto positive sicuramente. È stata una bellissima esperienza poter parlare, fare domande direttamente agli attori che abbiamo guardato praticamente in tutta Italia, a tutti i ragazzi della nostra età. È stato molto interessante soprattutto sentire le risposte di Pia Lanciotti. È molto interessante, ha fatto diversi collegamenti a libri e cose varie. È davvero formativa come esperienza per tutti noi. Soprattutto per una scuola di provincia come la nostra, magari non in una capitale come Milano o Roma, è sicuramente una svolta ed è bello vedere che vengono considerati anche i piccoli centri come può essere Mortara e il nostro istituto. Sappiamo anche che in Italia questa è una delle prime volte nella quale gli attori di Marefuori partecipano a un progetto del genere. È la prima volta per la nostra scuola e sicuramente con l'organizzazione delle generazioni a venire si potranno fare tanti altri progetti di questo genere. L'iniziativa rientra nell'ambito di un progetto di istituto che prevede interviste sull'argomento della serie TV. Tutto è partito all'inizio dell'anno scolastico quando nell'affrontare il tema del bullismo, proprio partendo da un caso che si era verificato di attualità, così nell'affrontare il problema mi era venuto in mente di sottoporre all'attenzione dei ragazzi alcune puntate della serie Marefuori. Alcuni di loro già la conoscevano, per altri invece è stata una novità. I ragazzi hanno poi proseguito nel vedere da soli queste puntate e hanno poi svolto dei lavori con l'insegnante d'italiano, proprio di approfondimento, anche di lettura di alcuni passaggi e di alcuni messaggi. Quindi il messaggio forte è proprio stato quello di si può sbagliare ma dallo sbaglio ci si può rialzare e soprattutto ci si può rialzare attraverso l'aiuto di persone che credono in noi e di persone nelle quali noi possiamo credere e nelle quali noi possiamo trovare davvero un appoggio. A Pavia adesso dove sarà una primavera all'insegna di tanti eventi culturali. Sentiamo. Mostre, filme e dibattiti sarà una primavera ricca di appuntamenti a Pavia nell'anno delle celebrazioni agostiniane. Il Comune ha presentato il progetto del Museo Sicuro e Resiliente finanziato da Fondazione Cariplo che ha visto una serie di iniziative di valorizzazione del Castello Visconteo. Dopo le grandi difficoltà della pandemia si è voluto dare un nuovo slancio ai musei civici dove oltre alle collezioni permanenti si potranno visitare le mostre mnemosi nel Teatro della Memoria e l'Arca Nascosta che offre uno sguardo inedito all'Arca che conserva le spoglie di Sant'Agostino. L'obiettivo è far tornare anche i pavesi a visitare i musei sempre aperti nel periodo di Pasqua. Nelle scorse settimane la Compagnia della Corte ha organizzato una serie di eventi teatrali e sono stati realizzati tre documentari su personaggi che hanno vissuto e lavorato in Castello, Bianca di Savoia, Isabella d'Aragona e Pisanello. Siamo stati chiamati per poter seguire il progetto di Cariplo, la base di Cariplo del progetto del Museo Sicuro e Resiliente al fine di creare tutta una serie di iniziative e coordinare una serie di iniziative svolte da partner che hanno la loro attività sul territorio al fine di ridare una nuova visibilità al castello e ai musei civici. In quest'ottica abbiamo realizzato oltre 30 eventi che si sono sviluppati a partire da settembre fino a dicembre dove sono state fatte visite guidate, visite teatralizzate, eventi anche con workshop per bambini, sono state fatte tutta una serie di attività che hanno avuto come unico e comune denominatore che cosa il castello oggi possa offrire al pubblico e motivare quegli visitatori che hanno già avuto modo di frequentare il castello in tempi precedenti di avere una nuova occasione per rivisitarli e conoscerli meglio e poter approfittare di quello che è l'enorme patrimonio che viene messo a disposizione dal museo e dal castello. Quindi questa è stata l'attività che abbiamo svolto unitamente a tutte le persone e alle aziende con cui abbiamo collaborato, poi abbiamo definito e sviluppato una serie di materiali che serviranno a livello di marketing e di presentazione di quello che sono le attività possibili all'interno del castello e del museo e che quindi diventino un reale strumento per fare comunicazione. Nei musei civici troverà spazio anche la mostra Sant'Agostino, la luce e l'immagine, un viaggio interattivo da Ippona Pavia che sarà inaugurata il prossimo 28 aprile nella Sala del Rivellino. Un'installazione multimediale curata dal collettivo di artisti milanesi Camera Nebbia che permetterà di immergersi nelle opere d'arte. In tutto il mese di aprile ci saranno poi diverse altre iniziative dedicate a Sant'Agostino. Il programma si può consultare sul sito www.santagostinopavia.eu E' davvero tutto con questa notizia e io vi auguro un buono proseguimento con la nostra programmazione. Grazie a tutti.